E ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari nel canale Allora cari inizio col dire subito grazie Il fatto che ho visto che la schedule su youtube ha ricevuto un buon numero di feed positivi Sono contento che perlomeno sappiate esattamente quando escono i video E questo cari chiaramente dalla parte nostra ci sarà la professionalità di farli uscire a tutti i giorni con tutte le ore previste Vi ringrazio cari comunque delle belle parole che spendete sempre sotto i video di youtube e sulla chat di twitch Oggi cari vi propongo un ulteriore video guida Nel fatto specifico visto che siamo inizio season Visto che molti giustamente vogliono capire un po' come rancare Prima cari dei nerf perché attualmente i nerf non sono usciti Probabilmente quando il video uscirà saranno usciti da poco Credo, credo e sono certo comunque che questo deck cari non verrà assolutamente intaccato dai nerf Si, mark of the wild costerà un mano in più Però se pensate ad execute Anche se comunque il power level di execute è maggiore rispetto all'antesman Comunque non è questo il problema Execute è comunque stata una carta giocabile Signori io vi lascio chiaramente al gameplay Appunto al commentary Invitandovi e ricordandovi che un like È molto apprezzato E soprattutto cari per me vale tanto Un like, un commento, una condivisione Come preferite o qualora tutte e tre Allora cari, prima partita che fanno è contro Hunter Sappiamo quanto il mid Hunter in realtà abbia preso Il meta in attacco e chiaramente c'è staffa un po' il cazzo che vuole A Mulligan me so tenuto tracking e shown Perché credo e sono abbastanza certo che shown in questo matchup sia difficile per lui da rimuovere O comunque se intende rimuoverlo in qualche modo A parte chiaramente buff di vereno Deve utilizzare pezzi per poterlo contestare Ziliax inoltre credo che sia anche quello un ottimo draw Abbiamo il coin fondamentalmente Possiamo al turno 4 mettere Ziliax E tra un paio di pezzi Anche se molto probabilmente lui risponderà Con un assalto Che è chiaramente il counter se ci pensate di Ziliax Detto questo va bene Fa un turno 3 passivo Non parte con Kill Command Io sono abbastanza contento di questo Non so in realtà Che come Penso che l'uovo di Gento Saro sia un Tobeck Non decente Fortissimo Perché il fatto cari che l'uovo di Gigantosaro sia abbaffato da Geleset Come ben potete intuire Lo rende pericoloso per lui Perché avendo chiaramente un veleno Noi in qualche modo possiamo assolutamente andarlo a Proccare E se invece viceversa non me lo va a distruggere Noi chiaramente giochiamo Sean Lo tradiamo E poi col 5-5 abbiamo Rush Per poi ripartire con Ziliax Credo cari che il nostro turno 4 sarà sempre messo ad eseguigi Sean A meno di cose particolarissime che possono succedere Tipo questa No perché attualmente il 5-5 è comunque contesta in Mario 3 della Iena A meno che ragazzi miei questo qua non intende Giustamente E lo sta facendo Questo è un buon turno eh Questo cari è un buon turno Questo è un ottimo turno Questo è un ottimo turno Perché fa il value trade E buffa la Iena Siamo in una situazione abbastanza critica Se non fosse che comunque la skill Diciamo su Arson Il top deck è molto importante E talvolta Per far vincere la partita Nel momento in cui questa partita si vince E grazie al turno 4 Il top deck di assalto Altrimenti della partita cari Probabilmente era persa Ah chiaramente il trade sul 3-3 Ci sta Va bene Il 3-4 Va bene Chiaramente cari Cioè la partita continua ad essere terribilmente difficile Se non fosse però che abbiamo alcune carte che ci aiutano Tipo Ziliax è la prima Ziliax ci fa cura di 6 Sarebbe interessante Penso che morte fasulla Non è esattamente quello che fa per noi Cioè Credo che la partita da signori Sia abbastanza compromessa Avesse avuto Avesse avuto Rexardic in mano Avrei probabilmente fatto Un altro tipo di trade No? Avrei trattato probabilmente il 3-3 Per poi ripartire con Rexard Però non ho Rexard in mano C'era lui Rexard in mano E quindi questo chiaramente Cambia le cose Credo che sia utopia vincere No? A questo punto 2-4-5 Vince con Kill Command Eventualmente con Boo Anche se non penso che lo gioca Vince con Adatti Un turno 7 Più te l'attacco Easy Va bene cari ci sta Credo che non potevamo farci nulla Ti ho più di questo Cioè Quando parto un così Quando parto un bene Quel turno chiaramente Che abbiamo anche fatto Che ha fatto Per contestare il nostro uovo E nel frattempo Vaglio tradare E dar più 2 più Alla Iena Come ben potete intuire È stato particolarmente minaccioso Però Non c'è ferma sicuramente questo Andiamo avanti Prossima partita Contro Lock Contro Lock Il matchup è buono Ci teniamo chiaramente La merma Nel momento in cui lui Possa essere un cube Ci teniamo l'uovo Perché abbiamo chiaramente O perché comunque Ragazzi L'uovo è troppo forte Mettendo pressure Contro Lock Perché Impediamo di giocare il fire L'Antesmark È interessante In funzione Di un even Non è even Quindi l'Antesmark Potrebbe comunque Essere forte In funzione di ben altre cose Penso cari che questa partita Questo matchup Sia per lo più differente Rispetto a quello Quello visto in precedenza Quello visto in precedenza Cari contro Mid Hunter Voi riuscite a vincere Talvolta Quando Avete nel Mulligan Un trigger Per il Detrattol E questo Detrattol È l'Antesmark È la bomba lì La roba bomba Nuovamente Di Prince Kelly Senta sì Se non fosse che Entrambe le volte L'abbiamo preso da tracking Quindi sai Tendenzialmente sarebbe meglio Prendere il Mulligan Non da tracking Da tracking Vorrete prendere l'altro Però comunque È comunque King Kellisett È una caratteristica Che mi sono appena Costruito E comunque King Kellisett Effettivamente non è un principe Prince 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 Partiamo di nuovo Non penso di far Coinplay Dead Visto che comunque Abbiamo tutto il tempo Del mondo Mettiamo chiaramente Il Loving Top Per far capire Comunque che siamo bravi E magari accendiamo Sta cosa Altrimenti Mi fumo All'aria Ora detto questo Come facciamo noi A mettere Aggressività Pur mantenendo Un counter Contro eventualmente Una sua rimozione Di massa Credo che la cosa È abbastanza semplice Basta che spammo Uovi Uovi Uova Basta che spammo Uova Uovi Come Diti E vabbè E quindi probabilmente Cari il turno dopo Io metterò un altro uovo E molto probabilmente Giocherò Play Dead Per dare quella pressure In più che ci serve Inizio alla partita Ok Zillax cari Chiaramente Lo valutatiamo Lo valutatiamo Solo per il motivo Per cui voglio Giocar Play Dead E non voglio che In qualche modo Lui possa andare A attivare Dei file strani Quel momento cari Drop a uno Dei file strani Uno Due Tre E il file Pulisce tutto Incluso le mie uova Che escono dall'uovo Le mie bestie Quindi voglio assolutamente Avere una bella board Pulita Attenzione cari Hai il file De file Perché se Lui vi fa De file E vi fa due danni Ai 5-5 E poi gioca il file E poi si buffa La sperson Praticamente inizia Il suo comeback Che è il comeback Normale Di un deck E di questo tipo Ok Penso che il nostro turno Qui sia abbastanza standard No Giocheremo Zillax Andremo a bariutrazzare Ci teniamo Al di fuori Eventualmente Del range Di defile E la nostra forza Cari Sta proprio in questo Cioè La forza di questo deck E la forza del deck Contro le AOE Generalmente Non è solamente Un fatto dei cubi Che comunque Soffrono il silence È il fatto che lui Non può giocare Il fire Cioè se gioca il fire Cosa risolve? Vero che risolve 9 danni Però è anche vero Che poi io riparto Con 6 danni dopo Più l'euro power Sono 8 danni Va 10 Nel senso la partita Prende una piega Abbastanza aggressiva E penso che ormai Vista da me a bordo Lui non possa più vincere Ok Questo tentennamento Siamo abbastanza certi Che ci fa capire Che lui abbia goffre in mano Quindi Ma il dito Prendo che l'ha messo? Vabbè Il fatto che abbia goffre in mano Vuol dire che io Devo assolutamente Evitare Di avere un qualcosa 2 Per poter fargli attivare Diciamo Tutto quello Che attiva goffre Nel senso Avere il cubo planet È troppo forte Però è anche vero Che se io qua Lì metto un 5-5 Lui non può fare Assolutamente niente Perché ripeto Contro goffre Noi siamo preparati Siamo parati Occhio al turn 8 Perché potrebbe fare Librarian goffre E quindi parte subito Con 4 danni a tutti Dobbiamo solamente Fare un conto E dire Va bene Mi fe goffri L'importante è che non muoiono I miei 5-5 E poter pusharti Danni dopo Quindi tu non lo puoi giocare Questo è poi il senso Io sinceramente A invoker Lo vedo particolarmente male Non mi sembra Che sia proprio Messo benissimo Sta 15 HP Contro una borde Di questo tipo Con due detrattol Che sono incontrastabili Bambola voodoo È impagliativo Cioè nel senso Bambola voodoo Spira Metradi il 4-3 E noi comunque Rimaniamo Ok questa è sicuramente Una bella rottura De cojone Allora Con goffre Quanti danni sarebbero? 2 4-2-4-6 Comunque non risolverebbe nulla In teoria no? Perché mi pare Facendo i calcoli Non so bravissimo Che calcoli Ultimamente Però facendo un calcolo Rapidissimo Dovrebbero rimanere 2-5-1 2-5-1 Quindi 2-5-1 Che visto che lui Utilizza 8 cristalli Di mana Non ha comunque Il mana Sufficiente Per poter fare De file E quindi Fine Sarebbe sicuramente Una scelta interessante Ma quasi quasi Il districatore È giocabilissimo Credo che il districatore Sia GG Regà Non può fare niente Avremmo potuto fare Anche coin Hero power Effettivamente Il coin Non ha troppo senso Arriva a questo punto Anche perché Posso giocare tutto Posso giocare Catrina Cioè nel senso I miei big Oddio in realtà Potrei Evitare di giocare il coin Tanto alla fine Due di hero power Due di danno Non servono a niente Per poter topdeckare In qualche modo Ginkrash E poterlo utilizzare Ma poi il coin Non potrebbe utilizzare Perché c'erano rubiano Quindi probabilmente Qua era da giocare I coin Dopo averne rubiano Ma questo non cambia nulla Perché lui non avrebbe Il mana sufficiente Per fare niente Ripeto Se lui dovesse fare Liberare a defile Sono Due Quattro Sei Otto Quindi dovrebbero Rimanere Due cinque Uno Quante possibilità E quindi fondamentalmente L'italia Perché il librarian Li fa un danno E' anche vero Che potrebbe giocare E' anche vero Che potrebbe giocare Che ne so Una Un qualcosa Tipo Una novice O Non so cos'altro In realtà Un talnos Sicuramente talnos Però è anche vero Che poi noi Siamo un off Quindi Non mi sembra Proprio una grandissima Win condition La sua Continua a mettere board Io sono sicuro Che lui in realtà Abbia Sì Questa è diciamo La prova esistenziale Che lui in realtà Abbia Cosa Come si chiama Avete capito No Abbia sicuramente Il sette mana Quattro quattro Che ho chiamato Finora Ma che non mi sono scordato In mano Trade Sono Undici Dove Questa è esattamente Lì Alcari In bordo Praticamente Con un marchio Che va a contestare Lungano 2 GG Ne rubiano Chiaramente Ha fatto il suo compito Ma Stavattita credo che Quelle uova Che Ne stanno Dal turno 3 Hanno carriato tranquillamente Evitando lui Di giocare il fight Hunter Va bene Ormai cari Tanto parto dal presupposto Che Quando è Hunter Nella Stagrande Ecco anche Grizzly Questa è una buona mano Anche Grizzly È un buon keep È normale Che comunque Soffre anche lui Ante Smark È normale Che soffrirebbe Un pochino La spella 3 Perché perderebbe Quei Due HP Perché lui pesca In realtà due carte Con la spella 3 Però è anche Ne pesca 3 Però la spella 3 Intesa come una carta Questo è chiaro Però è anche vero Che Grizzly È troppo forte Contro mid Parte con il Boku Quindi potrebbe addirittura Essere un mirror match Oppure Potrebbe essere Tranquillamente Un secret hunter O comunque Mid hunter Che gioca anche il Boku Il Boku è una carta Versatilissima Quindi ci sta Che ogni tipo Di hunter Giochi una carta De questo tipo Di T1 Tracking Anche qua Non è che Ci va a capire Troppo bene La situazione Se me gioca Ok Potrebbe essere Un secret O viceversa Potrebbe essere Un secret Mid hunter Questo credo Che sia un buon drop Non voglio assolutamente Giocare il coin Però Perché Non credo Di avere Comunque La necessità di farlo Certo Sicuramente A carte che mi fanno male Come la Spelzone E come Tuneside Però Insomma Dalla parte mia Ho Cubo Playdead E quando avete Cubo Playdead E Grizzly in mano Voi il coin Non lo giocate Perché tentate In qualche modo Di poterlo andare A utilizzare Per giocarlo Per appunto Sul Grizzly Ora È vero Effettivamente Che il Grizzly Giocherebbe Comunque In curva A meno che Non voglio fare Coin Grizzly Che è una giocata Secondo me Che ci potrebbe stare Ci potrebbe anche stare E fare assalto Solo 0-3 Se io faccio Grizzly Cari posso partire Con Cubo Sul Grizzly E al turno 6 Io posso fare Stalk E Predator Sul Grizzly Mi rimarrebbe Un Cubo Col Grizzly Dentro Che chiaramente Non soffre silence Perché il deck Avversario Non ha silence È una giocata Un pochino Grizzly Probabilmente Sì È una giocata Forte Probabilmente Sì Il fatto È che Penso Che possiamo Prendere In maniera Un pochino Più chill Cioè Sviluppare Board Lui Molto probabilmente Mi partirà Di Spellstone E in quel caso Non posso Giocare Il Grizzly Ok Qua ci fa capire Tranquillamente Che un segreto Questo è fine Però Questo va bene Ci fa capire Chiaramente Che un segreto È esplosive Questa gara È forte Pure È molto Forte Molto forte Allora Vediamo un attimo Qual è il segreto Vediamo un attimo Qual è il segreto Se non fosse Tipo Ok Non è né Il 2-3 Non è né Il 2-3 Né Chiaramente La Rattrap Quindi sarà Sicuramente Il 2-3 Con veleno Intendo Sarà sicuramente Esplosive E chiaramente No Il segreto Che quando attacchi faccia Attacchi un servitore Detto questo Cari Se non mi contesta Il 3-8 E non me lo contesta Perché non c'è Antesmark Visto che al turno 6 Chiaramente Lui va di To my side Abbiamo vinto la partita E Value trade Sul 4-4 Chiaramente Andiamo ad attivare Value trade Andiamo ad attivare Chiaramente La freezing trap Trade Trade Cubo Play dead Abbiamo vinto Quindi Esplosi Trap Freezing Trap Vabbè Esplosi Trap Non cambia un caso In realtà Non può più vincere È possibile Cioè È impossibile Che gli possa vincere Un po' di questo tipo Cioè Per quanto forte No Il versatile Lo spelanter Per quanto Comunque abbia modo Di mettere board Di fare anche qualche Rimozione A questo turno Sei cari Non c'è mai speranza Cioè Vincere praticamente Con quasi tutti i deck Anche se vi silenziano il cubo Comunque voi rimanete Con un'aggressività Incredibile No Con 2-3-12 Con taunt E comunque un cubo Che è un 4-6 Cioè mettete pressure Quindi siete hunter Ve lo potete permettere Allora caro Il prossimo Che tenterà in vano È Garrosh Che poi peraltro No Raven Ruben Sembra Ok Il prossimo Che tenterà in vano Di batterci È il warrior Molto probabilmente Un warrior Di stile odd Magari con la quest Chiaramente Quando io Gioco contro warrior C'ho subito Una lampadina No subito io Metto Metto in rassegna Quelle che sono le carte Che mi permettono Di vincere questa partita Chiaramente caro In questo senso Sono Rexardy Catrina Eventualmente i cubi I cubi Chiaramente Se quest Probabilmente non gira Nemmeno silence Quindi i cubi Rimangono forti Perché Vanno a counterare Come dicevo prima Le ao e Perché Chiaramente Fai brawl Oddio sì Chiaramente Brawl reckless Mi sa pure Vedi quanta armor C'hai Però brawl reckless Fondamentalmente Vorrebbero glirare No quindi quella È la sua risposta Più forte Vado di raw power Comunque abbiamo Uovo Abbiamo stalker Per l'uovo Possiamo comunque Iniziare a menargli Per poter chiaramente Andare a rimuovere Armor Che ci dà fastidio Per reckless flurry Non è male Non è male come mano Assolutamente Quando avete Uovo stalker In realtà Siete sempre contenti No dello start Perché fare a dt4 In questo caso Un 3-3 Un 5-5 Quindi fare a dt4 Generare Un più 8-pio 8 Capite bene Splittato in 2-mino Capite bene Che la cosa È molto 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 Detto questo Lui potrebbe Andare di armor O semplicemente Di defender Credo che defender È il miglior drop a 3 Per un odd quest Che sviluppa la quest Nel frattempo Cerca di piccare In curva Taunt Casa amore La stai piano piano Distruggendo E radendo al suolo Però va bene Credo che comunque Lo stalker Che sarà sicuramente La nostra giocata Potrebbe addirittura Pensare Con lo stalker Qua chiaramente Cari il canderaso Lo giochiamo E lo hitiamo pure Per evitare che Lui abbia melma O semplicemente Per mettere Quello 1-3 Sotto il mio 3-3 Potrebbe addirittura Utilizzare Il primo Shislem Perché vi assicuro Che 5-5 Lui dà fastidio Solamente per il fatto Che gli rompo l'armatura Lui dà fastidio Coin Zilex No coin Corno furente Ok 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 Coin corno furente Va bene ci sta Ora Pezza bene Legge e ne scrive Credo che qua Zilex Sia la giocata migliore No Però Anche assalto Non è male Anche assalto Non è male Assalto pure ci sta No Assalto Zilex In realtà cambia poco Zilex Premia comunque Inefficienza il mana Però abbiamo comunque Un mech in mano Che è il bombaragno Potremmo Anche pensarvi Qualcosa di carino Ora detto questo Detto questo Se mi dovesse mettere Qualche altro Taunt Tipo un altro 3-6 Chiaramente Lì vado di Zilex Credo Vado di Zilex Li pusho 5 tanti di faccia Ora però Quello che vorremmo Iniziare a vedere O intravedere Sono le carte Che vi dicevo prima Cioè Rexardk Catrina e Kubo Che ci servono Attualmente come il pane No Per poter Mantenere Un'aggressività In board Vedo che Vedo che ha fatto Una giocata abbastanza Abbastanza Cioè Abbastanza Credi Vedo che lui Non sta messo benissimo Perché mi fa una giocata Di questo tipo Non sta messo benissimo In realtà Però è anche vero Che se non avessi preso Catrina Potevo Giocare Un cube Eventualmente Però vabbè Keliset magari ci stava Catrina che sia 7-7 O 8-8 In realtà Non ci cambia un cazzo È sicuramente Il pick migliore Che vogliamo fare Sempre Non abbiamo un turno 7 Abbiamo Zilex Penso che Zilex Sarà un dignitoso turno 7 Zilex 0 power Perché con lui Qualcosa in board mette Potrebbe mettere Doppia milizie E Quindi in quel caso Zilex è utile Non mette Doppia milizie Probabilmente Questo è uno scislem Per tradare Quel 5-5 Io credo che No Io credo che Comunque Zilex Qui sia la giocata A meno che non Top deck dignitoso Questo non è un top Zilex Credo che sia la giocata Cari Faccio Zilex trade Chiaramente cari Cerchiamo di mettere Un buon positioning Per eventualmente Il suo super collider Quindi tutta sinistra Zilex Trade Faccia faccia Tutta sinistra Perché chiaramente Non mi muore il 5-5 E se lui gioca Super collider Molto probabilmente Che 5 mana Gli altri 2 mana Fai low power Quindi a me comunque Mi rimane un 5-2 Un 2-2 So 7 danni pusciati Che non so male E ripartiamo poi di Catrina Bellissimo Bello Bello Anche vero Anche vero che se Mi dovesse però Veramente partire Con super collider Posso anche pensare Di andare Melma Melma Bombarani Lo power Ci potrebbe pure stare Il fatto che ragazzi Super collider Fa schifo qua Perché dovrebbe mai giocarlo Ok Penso che questa sia Una delle più facili Catrine della storia Quindi Vado chiaramente Le Catrina Mi da Taunt Che non è forse Quello che noi Avremmo voluto avere 5-6 Trade Trade Li rompiamo l'armor Che può farlo qua Non lo so Regà in realtà Allora Ci sono Varie soluzioni Che potrebbe avere Una che mi sembra Abbastanza difficoltosa Ma in control No perché È difficoltosa Perché attualmente Che non lo girano Quindi main control tech L'avevo due Hero power Hero power Reckless flurry Che ve lo dico Fa schifo Quindi qua chiaramente Utilizza brawl Il problema di brawl È che chiaramente Quello che vi dicevo prima Catrina probabilmente Rimane Quindi Catrina Non c'è Rimane Catrina Va bene Rimane Catrina Rimane Catrina Non è male Non è strozza Per carità di dio Catrina Perché non è strozza Eh regà Perché comunque abbiamo Tracciamento Possiamo andare Noi abbiamo ancora King Crash E l'88 Quindi Eccolo qua Infatti play dead Sarebbe carino Prendere un bel cubo Perfetto Cubo Questa probabilmente È l'unica volta In cui voi Non piccate rex Perché il cubo Qua attualmente È veramente Troppo forte Qua Cubo play dead Tradiamo L'1-4 Facciamo cubo Play dead La partita è Praticamente finita Finita Perfetto Non c'è Assolutamente Soluzione Perché Perché quelle due catrine Ci danno Un grizzly E un Un 8-8 Con carica E quindi Anche se ne fa brawl Dall'uovo Escono due catrine Cioè questa fondamentalmente È il famoso scacco matto Che voi fate contro warrior E praticamente Descrive tutto No Che vi ho detto Le carte cavie erano Catrina e cubo Se poi le fate insieme Fate una crasi E spaccate tutto Allora Ultima partita cari Ancora contro warrior Mi dispiace che Non abbiamo visto Il nerubian Contro prede Però Se ci pensate L'altra volta Questo video Ha fatto vedere Solo le partite Contro prede No E questo è il motivo Per cui oggi Sono anche fortunato Nel farvi vedere Altri matchup Che c'ha Di buono Questo deck Che attualmente Secondo me Rimane uno dei migliori Per poter ladderare E rancare Non so Se avete notato Quanto gridi Sono stato Cioè Io ho kippato Catrina Braccato E predatore Perché secondo me Ripeto Queste sono le carte cavie Per vincere Il braccatore Che magari ci dà il cubo Abbiamo il predatore Che utilizziamo sempre Per triggerare Il detratto E' fine raga E' forte E' forte Cioè E' vero che è forte Pure la quest Ma il problema È che comunque Vuoi o non vuoi Lui impiegherà tempo Per farla questa E quindi noi Fondamentalmente In late stage Diventiamo troppo Più forti di lui Troppo Abbiamo anche play dead Che cazzo lo dico a fare Turno dopo Chiaramente Andiamo di braccatore Nella speranza Di prendere O un cubo O un uovo Andrebbe bene Anche un uovo Per quanto mi riguarda Ok Questo potrebbe Escere Potrebbe essere Invece Un rush down Quindi Un pochino più veloce Rispetto agli altri Preso l'uovo Credo che L'uovo Cari sia il drop Migliore Non occorre nemmeno Giocarlo stiched Più che altro Potremmo giocarlo stiched Quando veramente Abbiamo bisogno Del cubo Che ne so Per ottica Per finire la partita No per fargli Tanto male Anche vero Che il turno dopo Noi potremmo fare Maestro dei seguchi Coin Morte vasulla Non mi sembra Una giocata strozza No nel senso Che valutato l'1-4 Finisco il trade Sull'1-1 Però ecco Il problema È che mi utilizzo il coin Non so in realtà Quanto io vorrei Utilizzarmi quel coin Probabilmente Meglio fare I cazzi nostri Giochiamo un pochino Pi chill Lui potrebbe Chiaramente Necessariamente Fare doppio trade Solo 0-2 E giocare reckless Fare i low power E noi comunque Cari siamo contenti Uno perché Ripartiamo Con maestro Due perché ha giocato La reckless E tre perché Abbiamo chiaramente Equipato Catrina Play dead Catrina Palamano Che ci regala Soddisfazioni Ehm Doppio scislam Guarda che vabbè Cioè vabbè E fine In maniera Atroce Va molto bene Doppio scislam Ora Ante smart Lo vogliamo giocare Ragazzi Ante smart Vuol dire Che se io Poco poco Vado a prenderle I bestie O peggio ancora Vado a rimuoverle Ehm Ehm Detto questo Vado Chiaramente Il turno dopo Con il ricercatore Credo No Lo Stitched Ehm Lui di T7 Ricordiamo Che avendo giocato L'1-2 Potrebbe Sicuramente Avere Il 5-7 Con Taunt No Il 5-7 Con Taunt E Rush Ehm Credo che Il cubo Sia la giocata più forte Ragazzi Occhio Prende il prince Keleset Dallo sti Cioè Tu lo sai Sì Una cosa normale Sì ho capito Ma se lo prendi Cioè Fondamentalmente Questo te era una copia Di un mino Quindi se tu prendi Magari DT3 Keleset Giocchi Keleset Fai una figata E merda Perché Keleset In realtà Sta nel deck E quindi Non si attiva All'effetto Prenderesti Un 2-mana 2-2 Il che è abbastanza Strozzo Detto questo Conscio del fatto Che lui ripartirà Col 5-7 Il turno dopo Che vogliamo fa? Chiaramente Intendo il 5-7 Con Rush Allora Antesmark Abbiamo detto Che non lo gioco Ehm Posso giocare Marchio Posso giocare Marchio Lui mi parte Col 5-7 Che diventa 5-4 Che diventa 5-2 Grazie al 2-2 Ci sta Secondo me Cari Investire qua Il mana Per giocare L'antesmark Perché ripeto Una giocata Di taunt Rush Che sarebbe Il 7-5-7 A noi Non ci fa Né caldo Né freddo Anzi Ci va anche bene Perché ripeto Il 5-7 Poi sarebbe Sotto il 3 Eventualmente Del mio grizzly Perché Catrina Nel pool Due grizzly E un 7-7 Quindi probabilmente Ci venderà un 7-7 Che comunque Fa il trade Sul nostro Sul suo 5-2 Anche Assalto È simpatica Però Cazzo Coin Catrina È troppo forte Cioè Raga Coin Catrina Perché è forte Perché Qualora Non me la contestasse O comunque Non contestasse Eventualmente Un rush Nella speranza Chiaramente Dipende Il grizzly Adesso Io ho La combo finale Con Cubo Pleaded Eccolo Eccolo qua Ha fatto il grizzly Come avete visto Chiaramente Finisco il trade Giusto per metterlo Sotto il grizzly Apri di cielo Bocca al lupo Caro Bocca al lupo Perché ha giocato Doppio Shislem Avendo giocato Dopo Shislem Non può fare Shislem Su Catrina Che ne so Hero Power Rack Esflurry Tra dare il 3-12 E pulire tutto Non lo può fare Potrebbe Fare Nulla Nulla Ora Qual è il fatto Qual è il fatto Il fatto in realtà E che io non posso Uccidermi Catrina E Quindi fondamentalmente Come ben intuite Non posso Fare La combo Però credo Cari che Rexxar DK Sia un Drone Molto 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 Buono Tanto ormai Siamo coscii del fatto Che il hero power Non serve a niente Perché tanto Vinciamo con i pezzi In board E comunque Capite bene Che Rexxar DK Ci può dare cose Che sono Al di là Superiori Per questo matchup All'hero power Di Di rexxar Normale Quindi Rexxar DK Doppio trade Hero power Secondo me È una giocata Che ci sta tutta Oh Ripeto poi Si potrebbe pure Fare cubo Sulla 6.6 Play dead È un po' gridi Pari però È un po' gridi Come giocata Perché poi Alla fine Mi rimarrebbe Solamente una bestia E quindi Vuol dire Che lui Facendo Reckless Mi spona Un 3.12 E io perdo Cubo Play dead Fa affatto Una giocata Comunque Come questa Abbastanza Abbastanza Mediocre Che bello Quando prendete Il vicius Con carica Credo che sia Una delle cose Più forti Della madonna Anche il late stage Cioè una delle poche Giocate Uno dei pochi servitori A 4 mana Che rimane pure forte Il late stage È un qualcosa Che il vicius Con carica Va bene L'Ital Ce la faccio in qualche modo A spacciarmi Quella 6.5 No perché Non ho 10 mana E quindi E quindi niente Raga E quindi un cazzo Quindi Quindi King Crash King Crash ci sta No Oppure Oppure Se non vogliamo Giocar King Crash In questo spot Per farglieli Chiaramente faccia Posso usare Penso assalto Trade Mi sembra Una giocata Abbastanza forte Gioco assalto Sul 3 Sul 3 Finisco il trade Col 3 Con il 3 10 Scusatevi Poi Se lo dice Un simpatio Sinceramente Almeno è una cosa Che mi fa abbastanza Cora Spero di prendere Fura del vento Voglio Voglio essere Abbastanza Forte Nel piccare Fura del vento Chiaramente Ancora quel tracking Non lo giocheremo mai Più 3 Salute Salute Più 3 salute Pese bersaglio Chiaramente credo che Avendo finito Gli scislem Bersaglio dei chi Penso che Più 3 salute Sia la giota più forte Se mi fai Hero Power E Request Flurry Hai perso la partita Perché 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 Non hai modo Di tradarmi Il mio 7-7 Che uscirà Dalla Catrina A meno che Non c'hai Un Team Master O un qualcosa Del genere Il Dynamatic Chiaramente non contesta Solo il Team Master Che non Oppure Che ne so Il Big Game Hunter Fantasia Fantacombo Cose particolarissime Cose strane Cose utopistiche Fantacombo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ora Questo è il momento Cari per giocare Antesmark Se non fosse Che non serve Un cazzo Ormai Antesmark Perché abbiamo Piccato chiaramente La spell Che ci fa vincere La vittoria Avremmo avuto Comunque modo Di giocare Antesmark E prende Chiaramente D'altale Eventualmente O un Stun 3-3 Oppure un Play Dead Per vincere Con tutti Sti belli agnelli E quindi Monsignori Nella speranza Che il video Vi sia piaciuto Io questo è un deck Che vi consiglio Caldamente Molto forte Poi ripeto Cari Contro i predi Voi avete il nerubiano Ma comunque Il nerubiano è forte Avete visto Anche con deck Control No? Anche eventualmente Con lo stesso Warrior Con deck Che puntano A fare il controllo Della board Con spell E quindi In questo caso Brawl Wreckers Flurry Twisting Nether Siphon Soul La Spellstone Defile Elfire Spirit Lash No Spirit Lash No Perché tanto Costerebbe 4 Fire Si scream Isteria Il nerubiano Chiaramente Gli distrugge Completamente le speranze Se giocate Il T6 O ancora meglio Se poi Cubato Playdeddato Ed evocare Altri nerubiani E nerubiani Signori Io spero Vi non ci aiuto Nel mente Un popolo Seguro di sera Un grosso abbraccio Non so se tu Lo conosci Oppure no Ma gli spacca i culi Con il buratello Bro C'ha le carte Fanno parte Di un giochino In cui Lui crea delirio E arte Ehi Giocari Sono Atrix Gli distrugge I Gli distrugge Gli distrugge